Ciao a tutti ragazzi, bentornati in prigione, bentornati in prigione, allora, quello che sta uscendo ultimamente, mi viene da ridere perché dovesse concretizzarsi un affare del genere, io penso che, boh, non lo so, sarebbe alquanto clamoroso e fantacalcistico, però, quello che sta uscendo ultimamente sui giornali italiani e non ha del clamoroso ragazzi, a quanto pare la Juventus sta provando a prendere Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, Allora, il primo a buttare la bomba è stato TuttoSport e sappiamo tutti che quando TuttoSport scrive qualcosa è al 99,99% e una stronzata, lo sappiamo tutti, siamo abituati, Insomma, mi devo fare la barba ai capelli, siamo abituati e storie recenti e passate dimostrano che comunque TuttoSport non è affidabilissimo quando si tratta di mercato, e però dopo TuttoSport è uscita la notizia anche su Marca, su Abola, giornali spagnoli e portoghesi, quindi potrebbe essere vero, non potrebbe essere vero, non lo so, Sta di fatto che oggi le voci si fanno più insistenti perché il procuratore di Cristiano Ronaldo, che è Mendes, è lo stesso procuratore di Cancelo e a quanto pare settimane fa, quando la Juventus ha parlato con Mendes per Cancelo e per chiudere per Cancelo, pare che la Juventus abbia parlato anche di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo, la trattativa dovrebbe essere complicatissima, come è giusto che sia, e a quanto pare si parla di un'offerta intorno ai 120 milioni, cioè a quanto pare si parla già di un'offerta fatta da Marotti e Agnelli per quanto riguarda Ronaldo, cioè si parla già di offerta fatta? Si parla di 120 milioni al Real Madrid e 120 milioni a Cristiano Ronaldo per 4 anni, cioè verrebbero 30 milioni a stagione per il calciatore, 30 milioni a stagione per 4 anni, 4 anni che vorrebbe dire Cristiano Ronaldo alla Juventus fino a 37 anni, ovviamente cessioni escluse. Non me la vedo un'operazione in stile Juventus, nel senso, io non ricordo recentemente, nel passato, che la Juventus abbia offerto così tanto ingaggio, cioè la storia non è mai successa sicuramente, ma non mi ricordo io giocatori di 33 anni strapagati così per quanto riguarda lo stipendio, ovviamente in proporzione alle cifre che c'erano in un tempo, ma 30 milioni all'anno ragazzi è un botto, cioè io faccio fatica a credere ad un'operazione del genere, ma non perché la Juventus non ha i 120 milioni da dare al Real Madrid o i 120 milioni da dare a Ronaldo in 4 anni, la vedo proprio un'operazione difficile, perché già per dare i 120 milioni al Real Madrid sicuramente dovrà vendere tipo Higuain e Rugani, si fa un gruzzoletto di un centinaio di milioni e la Juventus può benissimo comprare a Ronaldo, cioè il cartellino lo può pagare benissimo se costa 120 milioni adesso, c'è la clausola di un miliardo, però a quanto pare è stata abbassata da Florentino Perez, perché un miliardo non te li dà nessuno, e a quanto pare è stata abbassata 120 milioni, quindi la Juve quei soldi li può dare, ma faccio fatica a credere che per i paletti che ha la Juventus all'interno della società, nel senso per quanto riguarda stipendio, faccio fatica che una squadra possa andare a spendere così tanto per un calciatore di ingaggio, anche perché lo sappiamo benissimo che in Italia non siamo mai stati abituati a dare grandi stipendi ai giocatori, c'è il giocatore più pagato in Italia, Higuain, che prende 7,5, e faccio fatica a credere che la Juventus possa dare 30 milioni, poi magari si chiude e Ronaldo avrà meno di 30, per dirvi, no? Però queste cifre io la vedo molto dura, ragazzi, sinceramente, io non so voi cosa ne pensate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se per voi è una trattativa possibile, io la vedo molto difficile, ma veramente difficile, perché lo stipendio è tanto, ragazzi, cioè la Juventus dovrebbe vendere ogni anno per poter garantire lo stipendio al giocatore, perché 30 milioni sono tanti, la Juventus ha già un montengaggio abbastanza alto, e con i 30 in più di Ronaldo verrebbe tanta, tanta, tanta roba, comunque, tecnicamente, cioè, tatticamente non dobbiamo avere dubbi, cioè, perché Ronaldo in queste ultime stagioni sta giocando anche prima punta, quindi sarebbe intelligente darvi i Guain e far giocare Ronaldo prima punta, scusate, anche perché l'anno scorso soprattutto Ronaldo ha giocato prima punta, con Benzema che svariava, Ronaldo sta giocando pochissimo esterno adesso, anche nel Portogallo, sì, si muove molto, destra e sinistra al centro, però principalmente sta giocando prima punta adesso, perché l'età si fa sentire, non ha più il passo di prima, però è decisivo in una maniera incredibile, come sempre, la Juventus potrebbe provare a comprare Ronaldo perché vuole vincere sta benedetta Champions, come dargli torto, cioè, per vincere la Champions devi avere un giocatore così, devi avere un giocatore così. Io non lo so, fatemi sapere qui sotto nei commenti se per voi è un'operazione fattibile, io la vedo difficile, però se la Juventus dovesse riuscire a comprarlo, cioè, alla fine, pensandoci, 30 milioni all'anno, secondo me una decina di milioni te la fai sulle magliette, cioè, come minimo, poi non lo so, la butto lì. Fatemi sapere come la pensate voi qui sotto nei commenti se per voi è un'operazione fattibile o meno, ieri è uscito The Giant Best Gold Skills e Shabalala, andatelo a vedere sul canale, e niente, noi ci vediamo oggi pomeriggio con un nuovo video, e bla!